Buongiorno a tutti, ci troviamo nella zona di Madonna del Cuore, a due passi del centro cittadino, con la tranquillità della periferia ma i servizi della città. Oggi andiamo a visitare questo appartamento, eccolo qui, appena siamo entrati possiamo vedere questo ampio salone, tutto in perfetto stato, lo possiamo vedere anche dalle immagini, cammino termico, anzi no, correzione, non è un cammino termico e dal salone ci affacciamo sulla terrazza, eccola qui, come dicevo qualche minuto fa abbiamo la tranquillità della periferia, una zona verde piacevole, qui è l'accesso alla palazzina, sotto abbiamo i giardini di altre proprietà ma comunque sempre un bel vedere, qui è l'accesso della palazzina, come ripeto, torniamo all'interno del nostro appartamento, attraversando la sala andiamo in cucina, una cucina abitabile, qui abbiamo il piano di lavoro, e dalla cucina andiamo a un balconcino, eccoci qui che si affaccia sull'area di parcheggio dove sotto abbiamo un garage, con la nostra rampa d'accesso, eccola qui, torniamo all'interno, abbiamo dei fari a parete per quanto riguarda il soffitto, andiamo nella zona notte dove troviamo un parchè, cominciamo dalla prima stanza, tutte e due lecce a stanze possono essere sicuramente delle matrimoniali, eccoci qui, qui abbiamo un armadio molto grande che è stato inserito nella parete tramite una nicchia, eccoci qui, un altro balcone, anche questo molto grande, chiudiamo, ecco qui, dove risponde anche la finestra del bagno, che è questa qui, sotto abbiamo il giardino, che non è di nostra proprietà, ma è molto carino, torniamo all'interno, bagno, un bagno grande, con vasca, eccolo qui, la seconda camera, andiamo, ecco! tornando sul salone vi do appuntamento ad una visita guidata grazie a tutti